Vercingetorige, il condottiero gallico che resistette a Giulio Cesare. Vercingetorige, 82 anno corrente, 46 anno corrente, fu un principe e condottiero gallo, re degli Arverni, un influente popolo gallico insediato nell'attuale regione dell'Alvernia. È considerato uno dei più grandi eroi della storia della Gallia, in quanto riuscì a unire le numerose tribù celtiche in una coalizione contro l'invasione romana di Giulio. Cesare Vercingetorige nacque in una famiglia aristocratica Arverna. Suo padre, Celtillo, era stato ucciso dai Romani nel 63 anno corrente, e Vercingetorige ne ereditò la leadership. Nel 52 anno corrente, quando Cesare era impegnato in una campagna militare contro i Belgi, Vercingetorige si proclamò e iniziò a radunare un esercito per combattere i Romani. Vercingetorige era un leader carismatico e un abile stratega. In poco tempo riuscì a radunare un esercito di circa 100.000 uomini, composto da guerrieri di diverse tribù galliche. Con questo esercito, Vercingetorige riuscì a infliggere una serie di sconfitte ai Romani, tra cui la celebre Battaglia di Gergovia, in cui Cesare fu costretto a ritirarsi. La vittoria di Gergovia fu un evento di grande importanza, in quanto dimostrò che i Galli potevano resistere all'invasione romana. Tuttavia, Cesare non si diede per vinto e continuò la sua campagna militare. Nel 52 anno corrente, assediò Vercingetorige nella città di Alesia. L'assedio di Alesia fu uno degli eventi più importanti della guerra gallica. Vercingetorige difese la città con grande coraggio, ma alla fine fu costretto alla resa. Cesare catturò Vercingetorige e lo condusse a Roma, dove fu giustiziato. La sconfitta di Alesia segnò la fine della rivolta gallica. Tuttavia, Vercingetorige rimase un simbolo di resistenza e di liberazione per i Galli. La sua figura è stata celebrata da poeti e scrittori di tutte le epoche, e continua ad essere un'ispirazione per coloro che lottano per la libertà. La figura di Vercingetorige. Vercingetorige è una figura complessa e controversa. Da un lato, è considerato un eroe nazionale della Gallia, in quanto ha tentato di unire i Galli e di resistere all'invasione romana. Dall'altro lato, è stato criticato per aver condotto una guerra che ha causato la morte di molti innocenti. La figura di Vercingetorige è stata interpretata in modo diverso nel corso dei secoli. Nell'Ottocento, fu visto come un simbolo del nazionalismo e della lotta per la libertà. Nel Novecento, fu invece interpretato come un precursore del socialismo e della classe operaia. Oggi, la figura di Vercingetorige è ancora oggetto di dibattito. Tuttavia, è innegabile che sia stata una figura importante nella storia della Gallia e che la sua storia continui a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. Vercingetorige nella cultura popolare. La figura di Vercingetorige è stata rappresentata in numerose opere di cultura popolare, tra cui il poema epico La Chanson de Roland, scritto nel XII secolo, racconta la battaglia di Roncisvalle, in cui Orlando, un paladino di Carlo Magno, viene ucciso da un guerriero saraceno.Il romanzo Vercingetorix di Alexandre Diuma, pubblicato nel 1864, racconta la vita di Vercingetorige. Il film Alesia 1967, diretto da Paul Chinner, racconta la battaglia di Alesia. Il film Vercingetorix 2001, diretto da Jack Dorfman, racconta la vita di Vercingetorige. La figura di Vercingetorige è ancora oggi un simbolo di resistenza e di liberazione per molti popoli oppressi. Grazie a tutti.